Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come trovare questa cometa notturna dirigetevi qui in questo posto e mi raccomando salite su uno di questi edifici per sbloccare i sigilli che si trovano qui questi sigilli si sbloccano facilmente accendendo le fiamme sulle tre torsi quindi non solo sbloccherete questo sigillo per prendere la cometa notturna come potete vedere questa è la cometa notturna, l'incantesimo, ma sbloccherete altre porte, porte che vi possono servire per avanzare un po' nella storia oppure trovare qualcos'altro ad esempio c'è un'altra porta dall'altra parte, adesso non l'ho fatta vedere ma c'è un'altra porta dove se la sbloccate all'interno troverete due boss da uccidere due stregoni che sono due mezze seghe che sono semplici da uccidere quindi sto un po' cazzeggiando qua ma tanto per spiegarvi cosa troverete una volta sbloccato quei sigilli quindi se il video vi è stato utilissimo lasciate un like iscrivetevi al canale, sfogliate un po' sul mio canale se vi interessa qualcos'altro di Elden Ring perché troverete tutto lì quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Grazie a tutti